A me piace commentare i film o le opere datali che vedo, quindi Ogomurra non l'ho ancora visto, quindi per esprimere un giudizio sull'opera cinematografica la devo vedere. Tendenzialmente il mio pensiero lo espresso più volte, basta, ed è molto attuale il tema di adesso, di un'immagine unilaterale della nostra città. Qui nessuna persona intellettualmente onesta nega che ci sia Camorra a Napoli, che ci sia delinquenza e ci siano cose che non vanno, ma io vedo sempre di più crescere, nascere, fiorire e consolidare l'altra Napoli, che è la Napoli capitale della cultura, dell'arte, della musica, dei giovani, della creatività, della fantasia, della legalità, del contrasto alla Camorra e sono anche un po' stanco complessivamente di una letteratura di maniera. Altra cosa è denunciare, quindi mai nascondere sotto il tappeto, non narrare le cose che non vanno e altra cosa costruire identità che non esistono. Quindi io vorrei raccontare, vorrei in qualche modo ridimensionare storie che certe volte non esistono più di tanto e raccontare storie che invece non vengono narrate. Quindi il mio impegno da sindaco è dare soprattutto forza a chi contrasta la Camorra e forse anche a raccontare un po' meglio come sia oggi forte un nuovo modo delle mafie, quello di infiltrarsi nella politica e nelle istituzioni in modo radicale e raccontare anche che ci sono tante persone che ogni giorno contrastano quel sistema. Certe volte questo non emerge molto nei romanzi, nella letteratura e nelle opere cinematografiche perché magari fa anche comodo a qualcuno che sia così.